Qual è stato il momento più buio secondo lei? Forse il momento più buio è stato all'inizio... Quando dovevamo fermare il virus come fermare l'acqua con le mani? Non avevamo neanche i mezzi? Il momento più difficile nella mia esperienza è stato all'inizio quando noi vedevamo la curva delle proiezioni delle curve delle terapie intensive salire, nelle proiezioni, e questa curva molto ripida aveva una coerenza con quello che accadeva ogni giorno e noi aspettavamo alcune decine di ventilatori dalla gestione commissariale e c'era negli ultimi 5 giorni che precedevano la consegna c'era la conferma ogni giorno della consegna di quei ventilatori. Che non arrivavano? Quei ventilatori, la conferma nei 4 giorni e al quinto giorno mi chiamo Borrelli una notte e mi dice che ce li hanno portati via. E quindi noi siamo riusciti a tenere, fortunatamente la curva è calata, la capacità di risposta delle intensive comunque è stata adeguata, ha risposto a tutte, al di là delle polemiche che continuiamo a leggere. E no, ma adesso mi ha portato ovviamente a chiedere anche questo. E siamo riusciti a dare non solo delle risposte ai nostri cittadini, ma abbiamo anche ospitato cittadini di altre ragioni.